un ko eccellente riscrive il vertice d'eccellenza perché il colle ferro cade con l'audace resta 49 e a meno uno dalle affamate nuovaitri e serpentara intanto in poco più di un quarto d'ora si scrive l'x tra nettuno e un sempre visa sempre in coda prima pagina poi c'è il falasche un rigore fallito e un gol di farruggia piegano la capolista lepanto scavalcata dal città di ciampino fermata sull'x dall'unipo mezzia un punto a testa tra grandi club esattamente come cori e lido dei pini nello scontro diretto tra due top club bramosi di podio guidati da due ottimi coach epilogo thrilling tra dragona e aranova il finale aprirà nuovi scenari lassù torbaianica sempre primo in prima il colosseum resta meno due perché a stornelli risponde guerra della virtus nettuno e non manca nessuno alla battaglia da podio il genzano ne fa tre all'aprilia ed è terzo davanti all'indomita dopo il 2 a 2 col montello racchiuso in una ventina di minuti mentre negli ultimi istanti del big match di seconda campo verde e air clima impattano 1 1 elettrizzando la stracittadina nel frattempo in terza lo sporting nettuno sorride dopo il 3 a 0 lassù in cima col maenza insegue il monte giordano dopo il poker al prosedi crolla la fanciulla sarà duello a tre